Mia madre sfogliava novella 2000 ed io ai suoi piedi leggevo preve avevo dieci anni ma pensavo già alle donne e chiuso nel mio bagno e amavo e di spene a scuola i ragazzi giocavano a calcio ed io sul muretto citavo Verlè avevo sedici anni e pensavo solo al sesso poi vidi le sue labbra e me le innamorai e scrissi più o meno 200 poesie la prima diceva così amami come se fossimo ancora in quel bar di Berlino a fumare polvo amami come quella volta all'esse lunga quando un preda ha la fame ruba un po' da che mio padre voleva che facessi il ragioniere ma io impertinente risposi già mai avevo vent'anni ecco i miei capelli lunghi acquisa di dendi che bevevo con gli anni avevo già scritto tre mila poesie la prima diceva così amami come se fossimo ancora in quel bar di Berlino a fumare polvo amami come quella sera a Marsiglia quando un preda al Barbera mangiamo e scarco a giugno mi chiese amami come se fossimo ancora in quel bar di Berlino di amarla per sempre ma io in penitente risposi di no avevo trent'anni e vivevo da Bohemian lei disse sotto voce vedrai te ne pentirai amami come se fossimo ancora fra le calde lenzuola nel letto dei tuoi grazie a tutti 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 grazie a tutti